pesa laggiù bene e basta, non fare niente, seconda e vai via dritto lungo non ti fermare i danni forte forte e te la butto indietro è questo perché l'ho fatto lungo dai 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 l'hai già fatto dieci volte dagli bene e allora e allora hai già fatto dieci volte ma che problema allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai a sinistra, non andare giù di lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.